Per assicurare un veicolo in provincia di Coma a dicembre 2021 occorrevano in media 335 euro, vale a dire il 9% in meno rispetto allo stesso mese del 2020. Emerge dall'analisi di Facile.it secondo la quale nella provincia lariana la percentuale di automobilisti che hanno denunciato all'assicurazione un sinistro con colpa nel corso del 2021 è pari al 3,29%. Si tratta del secondo valore più alto nella media regionale. In questo caso gli automobilisti dovranno fare i conti con un peggioramento della propria classe di merito e di conseguenza con un aumento del premio RC Auto, una situazione che riguarda quasi 141.000 automobilisti lombardi. A livello regionale il 2,71% degli automobilisti ha dichiarato un incidente con colpa percentuale che risulta più alta rispetto a quella nazionale al 2,47%. Analizzando infine il campione su base provinciale Sondrio è la provincia lombarda che ha registrato la percentuale più alta di automobilisti che hanno denunciato all'assicurazione un sinistro con colpa il 3,71%. Seguono nella graduatoria le province di Como, Brescia, Bergamo, Monza e Brianza e fine Milano. Valori inferiori alla media regionale invece per Varese, Lecco, Lodi e Pavia.